Grazie Presidente. Brevemente si tratta di un ordine del giorno che va a rinforzare l'attività che abbiamo portato avanti da inizio di questa consigliatura ma anche di quest'anno sul tema della programmazione economica del bilancio partecipativo, sulla quale voglio ringraziare anche i municipi per i quali so che sono in corso tutte le attività di progettazione. Volevo anche ringraziare l'aggiunta e la sensibilità dell'assessore Lemmetti che sul tema è sempre stato anche lui sul pezzo e si sta cercando il più possibile di chiudere nei modi e nelle forme previste dalla contabilità generale quelle che sono la canterabilità delle opere e anche per garantire che possano essere vincolate attraverso anche il fondo pluriannale vincolato per gli anni successivi. Quindi un'operazione che va avanti, che si consolida e sulla quale con questo ordine del giorno vogliamo ovviamente rinnovare l'attività e richiamare insomma al lavoro e al grande lavoro che viene fatto su questo tema. Grazie.